Taglio delle tasse sul lavoro, un piano antipovertà e una sorta di pensione di cittadinanza. Governo e Parlamento si muovono su più fronti per affrontare le emergenze legate alla crisi economica. La riduzione del peso fiscale sul lavoro per Palazzo Chigi resta la priorità. Lo stesso Gentiloni, lo annunciato in tv, i tecnici studiano ipotesi in grado di portare nelle tasche dei lavoratori dai 300 agli 800 euro all'anno attraverso uno sconto sui contributi. Il nodo principale riguarda la platea dei beneficiari. Se il taglio del cuneo fiscale interesserà tutti e 10 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti o solo i neoassunti. Al Senato invece si attende il via libera definitivo alla legge delega sulla povertà. Si tratta di un provvedimento organico per far uscire dallo stato di indigenza 2 milioni di persone. In cambio di un sostegno che va dagli 80 ai 400 euro mensili distribuiti con una card, le famiglie interessate dovranno impegnarsi a mandare i figli a scuola, a farli vaccinare oppure a frequentare un corso. Sul piano previdenziale invece si pensa ad un contributo per chi è stato assunto dopo il 1996, un assegno di 500 euro al mese che sosterrebbe la futura pensione che sarà calcolata solo con il metodo contributivo e senza integrazione IMSS nel caso non raggiungesse il minimo. Misure che lette politicamente dicono che il governo Gentiloni si prepara a completare la legislatura naturale.